al segno del toro, per voi amici del toro questa è una luna molto bella, una luna fortunata nell'amico segno della Vergine, adesso ci sono tutti questi transiti planetari nel Sagittario, quello per voi è un settore un po' particolare che ha a che fare con la burocrazia, ci sono delle lungaggini che probabilmente rendono più difficile il vostro percorso da un punto di vista lavorativo, non so se dovete firmare un contratto, magari qualcuno rimanderà la stipula di certi accordi, oppure siete in attesa di una comunicazione che deve arrivare dal comune, che deve arrivare da una banca, insomma ci sono delle difficoltà sotto quel punto di vista ma alla fine riuscirete a trovare delle soluzioni, bellissimo l'amore soprattutto in questa giornata è una luna che parla anche di nuovi incontri.